Se l'attuale asfissia dei centri storici europei, compreso quello di Gubbio, è per gran parte dovuta alle sole politiche sino ad oggi perseguite, basate sulla conservazione dell'esistente, com'è possibile che il perdurare di tale immobilismo possa produrre, oserei dire, attraverso la sua contemplazione un'inversione di tendenza? Parte da questo quesito l'architetto Gaetano Rossi nel suo intervento sulla questione della rifunzionalizzazione delle logge dei tiratori, perché la migliore definizione di centro storico, secondo Rossi, è quella che lo vede come la materializzazione nello spazio delle stratificazioni culturali avvenute nel tempo, ed è partendo da questo che divenne dirimente stabilire quale nuova destinazione dovranno avere le logge, al fine di attivare quel processo di sviluppo locale che fa perno sulla valorizzazione del centro storico, così come sancito a livello regionale, nelle linee guida predisposte per la redazione del quadro strategico di valorizzazione. E questo sarebbe possibile, secondo l'architetto Rossi, coniugando al tema logge dei tiratori il titolo assegnato al dossier preliminare del QSV che dovrebbe rappresentare la prima idea forza del documento, e cioè gubbio caposaldo della civiltà umbra. In questo, secondo Rossi, non è difficile individuare nelle logge dei tiratori un polo museale sulla civiltà umbra, in cui le tavole gubbine, stirpate da un sottoscala, trovano un'adeguata collocazione negli spazi superiori del loggiato, all'interno di un corpo trasparente che ha una sua fisionomia e struttura che si somma all'esistente e quindi funzionale ad una esaltazione tra vecchio e nuovo. Un'operazione capace di strutturare un polo culturale dove potranno trovare spazio e aree in cui rappresentare, con filmati e tecnologie adeguate, il contenuto delle tavole, aree espositive, auditori, insomma, conclude l'architetto Rossi, la nostra Arapacis, un polo culturale strategico, foriero di significati che rafforza l'insieme palazzo del turismo e centro santo spirito appunto logge dei tiratori, già individuato nel QSV e da cui sarà possibile, anche con i suoi affacci verso la parte monumentale della città, disporre di un'osservazione completa, esclusiva e inedita della storia.